Si può ripresentare la dualità. Cerchio Marina attraverso Attilio M, Entità Scientifica. Dimmi ancora Mario, ma se un uomo si mette a fare oggi, quello che sarebbe meglio fare domani, tu cosa gli diresti? Io sosterrei che è una persona intelligente. Che cosa mi fa dire che è intelligente, secondo te? Mario, perché abbiamo detto che spostare nel futuro il fare è un non procedere e quindi è vivere nell'illusione. Entità Scientifica, e quindi l'uomo che agisce oggi, pur pensando che dovrebbe fare domani, come si ritrova? Nelli, vive nel presente. Entità Scientifica, non è che lui viva pienamente nel presente, se ci pensate bene. È per questo che io ho introdotto questa questione. Perché la sua mente dice che dovrebbe fare domani, però lui fa ora. Che cosa vi porta a concludere questo? Mario, che in questo momento, egli è. Entità Scientifica, ma che cos'è se la sua mente pensa a domani? Come mai l'uomo si ripropone duale, anche capovolgendo, per così dire, la dualità? Cioè pensa al domani e opera adesso. Come mai? Miriam, perché è difficile rimanere nell'attimo. Entità Scientifica, perché è difficile rimanere nell'attimo, perché lui spera che anticipando l'azione, in qualche modo, ottenga gli effetti anticipati rispetto a quelli previsti. Questo cosa vi dice? Marta, che comunque si proietta. Entità Scientifica, che comunque si proietta. Però, che può anche capovolgere la cosiddetta dualità. Cioè, non sempre l'uomo guarda al passato, sta ancorato al passato e non vive il presente. Non sempre l'uomo agisce ora, pensando al passato. Non sempre l'uomo continua a pensare al passato e a rimandare l'azione. Ma l'uomo può anche agire oggi in vista del futuro, pensando che le azioni che fa oggi possano ipotecare il futuro. Questo è l'uomo. Ma questo mi fa dire che nell'attimo si può ripresentare la dualità. Non soltanto verso il passato, non soltanto, badate bene, rispetto alle aspettative sul futuro, ma anche anticipando l'azione, operando secondo ciò che si pensa, dovrà essere il futuro. E con la mente, sempre legata al futuro. Cosa succede se l'uomo annulla non già il passato e il futuro, ma il pensiero sull'azione che sta facendo? Marta, che non gli importa delle conseguenze, entità scientifica, che non gli importa delle conseguenze, che non gli importa delle motivazioni, agisce perché deve agire. In quel momento l'individuo affronta una questione sostanziale, ma non sarò io a spiegarvela perché non rientra nelle mie competenze. vocedellacuiete.vaianochiociolagmail.com Grazie. 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 Grazie.